Ciao a tutti, io sono Edda, blogger e maker della figurina. Ho finalmente terminato un'altra nuova decorazione in attalizia. Tadam! Un alberello di carta, vi piace? Realizzarlo è abbastanza facile, mi servirà un pizzico di pazienza e tanta tanta precisione per fare queste piccole pieghettine sulla carta. Ma la tecnica che ho utilizzato alla fine è molto molto semplice e ve la mostrerò in questo tutorial naturalmente. Per creare questo alberello ho utilizzato della carta stampata rossa e bianca con il gua. Ma volendo voi potreste utilizzare della carta da regalo che mi piace tantissimo. Questo tipo di decorazione può essere acquisa all'albero di Natale, se il vostro angolo è abbastanza grande. Altrimenti potrebbe decorare qualsiasi angolo della vostra casa. Io per esempio un alberello di carta l'ho appeso sulla mia chitarra. Ma adesso vi lascio il tutorial. Ciao, buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!